Un pacchetto di misure per il rientro a scuola in sicurezza anche prima del 31 gennaio, se la situazione in relazione alla pandemia lo permetterà. È quanto ha annunciato il presidente della regione Francesco Acquaroli, insieme agli assessori all'istruzione Giorgia Latini, ai lavori pubblici Francesco Baldelli e alla sanità Filippo Saltamartini, illustrando gli interventi destinati alla scuola e finanziati dalla Giunta con 5 milioni di euro per sanificare gli ambienti e migliorare la reazione di ogni scuola di ordine e grado e con 2 milioni per garantire la strumentazione tecnologica necessaria nei giorni di DAD. A questi provvedimenti si aggiunge la possibilità di tamponi gratuiti senza prenotazione per tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico. Noi ci rindirizziamo verso il controllo del contagio e dell'indice RT. Se l'indice RT, il nostro timore una settimana e mezza fa era che l'indice RT avesse superato l'1 e quindi ci avesse anche proiettato in una condizione di contagio con una forte ripresa perché avevamo denotato una presenza di casi sintomatici per più giorni sopra i 65 quasi ai 70 sintomatici al giorno e anche nel numero complessivo erano tanti casi, abbiamo sfiorato e superato i 700 casi. Questa settimana appena conclusa invece ci ha restituito una situazione in miglioramento che ci fa preludere a un indice RT che non supera l'1 e una situazione anche di casi sintomatici intorno ai 50. La scorsa settimana praticamente tutti i giorni sono stati intorno a 50 casi sintomatici e praticamente quindi una stabilizzazione verso il basso di questo indice. Importante perché? Perché diciamo che sotto al numero dei 60 casi normalmente i ricoveri ospedalieri tendono gradualmente a scendere, sopra il numero di 60 i ricoveri ospedalieri tendono e anche quindi le terapie intensive a crescere. se i numeri da qui ai prossimi giorni a quando ci sarà comunicato, sarà calcolato l'indice RT saranno confermati noi ci stiamo organizzando per riportare in presenza il 50% degli studenti. La prossima settimana ovviamente si riapriranno le scuole solamente se gli indici comunque tenderanno a scendere perché comunque gli indici prima quando noi li abbiamo chiusi erano in salita. Si sono stabilizzati e stanno scendendo e quindi noi faremo un tavolo con il mondo della scuola, i sindacati, l'ufficio regionale scolastico per vedere questa possibile apertura del 25. Noi stiamo lavorando da parecchio, purtroppo il governo non ha lavorato in questi mesi, in questi parecchi mesi che comunque sono trascorsi, per esempio noi stiamo provando adottare delle misure per la reazione dei locali perché è una cosa primaria far tornare i ragazzi in sicurezza nelle scuole. Noi stiamo intervenendo e stiamo studiando quegli interventi necessari per garantire la salubrità delle nostre scuole e delle nostre aule. Aspettavamo un intervento governativo in tal senso, non c'è stato, quindi stiamo recuperando risorse per garantire la strumentazione necessaria per la ventilazione meccanica controllata delle nostre aule che garantiscono il ricambio dell'aria, quindi una funzione anti-covid, ma saranno interventi strutturali che serviranno anche per il futuro. Per quello che riguarda i tempi noi saremo in grado, dopo vedremo anche le disponibilità dei comuni e delle province, di realizzare un bando in cui i comuni potranno partecipare per creare subito una gradatoria in due o tre settimane. Il resto poi verrà demandato agli altri enti che sono proprietari degli istituti scolastici.